Ma che sorpresa! Il prossimo ospite è Mamma Beba. Mamma Beba che dall'Etiopia dopo 8 anni è qui! Giuseppe e Angelo dall'Argentina sono qui! Mamma Malvina dopo 15 anni è qui! Ma che sorpresa! Lui qualche volta ti fa! Ma che sorpresa! E che emozione ti dà! Lui ti conosce e sa come sei fatto tu! Quando le notte lo aspetti ti dà un brivido in più! Ma che sorpresa! Lui qualche volta ti fa! Ma che sorpresa! E che emozione ti dà! Lui ti conosce e sa come sei fatto tu! E quando le notte lo aspetti! Che sorpresa per te! Mamma Beba che sorpresa! Grazie! tecnica bringo! Grazie.